mi piacerebbe vedere i due ronald messi in finale fa il finalone capito di quelli super non mi dispiacerebbe vedere loro a come vincitore è dura se la merita se la meritano tutte e due però se proprio devo scegliere ma messi è nato è nato con quella cosa lì con l'altro ha dovuto lavorarci e quindi capito no c'è un discorso messi ha già vinto ha già vinto cioè lui è già lui è capito non mi vai ronni ronni sta passando un periodo anche un po coso dai ronni